Ciao ragazzuoli! Oggi vediamo come creare un server Samba, quindi un server di condivisione file in rete con una qualsiasi distribuzione Linux. Dico qualsiasi perché io in questo video utilizzerò Arch Linux, ma potete eseguire gli stessi identici passaggi con qualsiasi distribuzione purché abbia SystemD come sistema di init e non init, anche se ultimamente tutte le distribuzioni hanno SystemD, quindi non dovreste avere problemi. Ma bando alle ciance, il primo passaggio è quello di impostare un indirizzo IP statico, perché se usiamo molto spesso il nostro server può essere comodo, nonché anche utile, creare dei collegamenti sia su Windows ma su tutti i dispositivi in modo che io faccio due click e accedo al mio server. Però se l'indirizzo IP cambia, non mi è possibile farlo. Questo perché spiegato velocemente, se io faccio il collegamento del server su 192.168.0.7 tanto per dire, poi riavvio il mio server perché ho eseguito un aggiornamento oppure banalmente riavvio il modem o il router e l'IP diventa 192.168.0.9 e il mio collegamento non funzionerà più. Per fare questo troverete in rete molte guide che vi diranno di modificare dei file di configurazione. Questo è vero però, io ho scoperto, tra virgolette scoperto perché l'ho trovato semplicemente in rete, un modo per farlo senza modificare nessun file di configurazione. Prima di tutto dobbiamo scoprire l'indirizzo IP di questa macchina perché è sempre bene impostare l'indirizzo IP statico sull'indirizzo IP che ha già. In realtà si può anche cambiare IP ma solo nel caso abbiate particolari esigenze perché altrimenti non è molto difficile però può creare dei problemi. Quindi diamo il comando IP address e disattiviamo questo. Scopriamo che l'indirizzo IP su questa interfaccia, ora sono in macchina virtuale, quindi l'interfaccia ha un nome che, mamma mia, è fantastico. Però di solito il nome dell'interfaccia è eth0 se siete in Ethernet oppure wlo1, wlan0 se siete in rete wireless. L'indirizzo IP nel mio caso è 10.0.2.15.24. Questo perché, ripeto, è proprio un IP da macchina virtuale. Normalmente gli IP sono 192.168.1 o 0 e un altro numero che non è 1 ma può essere ad esempio 5 o 2 o qualsiasi numero insomma. Quindi dopodiché impostiamo l'indirizzo IP statico su quell'IP. Per fare questo diamo il comando ip address add e l'indirizzo IP che abbiamo appena scoperto. Quindi 10.0.2.15.24. Mi raccomando il slash 24 è importantissimo perché se non lo mettete non funzionerà. Dev, quindi spazio dev, spazio e il nome dell'interfaccia. Nel mio caso è np023 ma s3. ma, ripeto, normalmente eth0, wlo1, wlan0. Insomma, nomi del genere sicuramente e non un nome così incasinato. Quindi facciamo invio. Se ci dà questo errore, noi dobbiamo dare il comando ip address flush dev e nome dell'interfaccia np0s3. E dopodiché ridiamo lo stesso comando. Ora impostiamo il gateway. Il gateway è l'indirizzo IP del router. Quindi ip address root add default via. Ora siccome io ho 10.0.2.15 suppongo che il gateway sia appunto 14. Però ad esempio se il vostro indirizzo IP è 192.168.1.7 normalmente il gateway è punto 1. Stessa cosa se abbiamo un indirizzo IP del genere il gateway sarà sempre comunque punto 1. Comunque io do 10.0.2.14. In questo caso non serve lo slash 24. No, scusate. Senza ip address, ip root. Perfetto. Abbiamo impostato in questo modo l'indirizzo IP statico. Una volta che abbiamo impostato l'indirizzo IP statico è molto importante installare un firewall. Quindi devo installare UFV su Arch Linux, il gestore di pacchetti è Pacman. Però ad esempio su Debian e apt, quindi apt install e avanti così. Qui abbiamo in Arch Linux pacman-s UFV. Questo è proprio il nome del firewall che andremo ad installare. Un firewall veramente molto molto leggero che io tra l'altro dovrei già aver installato. Quindi lo andiamo ad installare, che ora io ce l'avevo già in cache perché è già installato, ma comunque come vedete pesa veramente poco, quindi praticamente non vi accorgete neanche del tempo di installazione. Ora lasciamolo in pace per un attimo e andiamo ad installare Samba. Sempre in base al vostro gestore di pacchetti, io ripeto, in Arch Linux e Pacman, quindi pacman-s Samba. Ok, io anche questo l'avevo già installato. Avrà circa 19 dipendenze, quindi lasciate che installi tutte le dipendenze. E ora andiamo a fare la configurazione. Prima però è importantissimo creare la cartella di condivisione. Questo perché in questo video vi farò vedere come fare se volete utilizzare l'hard disk interno del computer. Se volete utilizzare l'hard disk esterno, un SSD o una chiavetta USB o qualsiasi cosa vogliate, vi farò vedere come farlo quando farò lo stesso video però su un Raspberry. In quel video vi farò vedere anche come impostare fail to ban per proteggere il server SSH. Quindi creo una cartella con un nome qualsiasi in home, il vostro nome utente, e metto un nome qualsiasi ad esempio condivisione. Perfetto. Ora devo andare a modificare la configurazione. Quindi do il comando vim, perché io ho vim come editor di testo, ma voi potreste avere nano o qualsiasi altro editor di testo. vim.etc.samba.smb.conf Ora molto probabilmente vi ritroverete davanti a un file vuoto. Questo file però non deve essere vuoto. Io in descrizione vi lascio il link per fare un copia e incolla del file di configurazione già fatto. Perché è un file veramente lunghissimo e copiarlo tutto sicuramente non è fattibile. Oltre al fatto che appena vedrete quanto è lungo vi passerà subito la voglia. Quindi voi su quel file andate in fondo, proprio in fondo fino alla fine, e aggiungete questa riga. Apriamo una parentesi quadra e diamo un nome alla nostra condivisione. Ad esempio io metterò proprio condivisione. Ok, andiamo a capo e ora inizia proprio la configurazione vera e propria. La prima stringa è path, uguale, quindi il percorso. Noi abbiamo creato la cartella in home, nome utente, condivisione. Questa è la cartella che Samba utilizzerà appunto per la condivisione. Ora scriviamo Browsable, uguale, yes. Ciò significa che la cartella a condivisione è navigabile da qualsiasi dispositivo, che appunto si connetta al server. Readable, quindi scrivibile, uguale, yes. Questo fa in modo che gli utenti possano effettivamente aggiungere file alla nostra cartella condivisa, altrimenti non avranno il permesso. Read only. Quindi cartella in sola lettura, assolutamente no. E ora possiamo fare in modo che i client, quindi coloro che si collegheranno al nostro server, utilizzino una versione specifica di Samba. Questo perché? Beh, fondamentalmente per evitare che si colleghino con Samba 1, che è una versione vecchia che potenzialmente può portarci dentro dei file infetti dei malware, quindi è da evitare che possano collegarsi con questa versione di Samba. Per fare ciò aggiungiamo alla scritta server minprotocol uguale e mettiamo ad esempio Samba 2 SMB 2 underscore 0 2. Quindi tutti i client non potranno collegarsi con una versione al di sotto di questa. Ora noi potremmo lasciare così, nel senso che possiamo dire a me basta che una persona si colleghi al mio server con Samba 3 per dire, poi anche se ha Samba 25 per me va bene lo stesso. Però se vogliamo limitare anche il protocollo, la versione massima del protocollo, possiamo aggiungere un server max protocol uguale SMB 4 per esempio, che ho sbagliato a scrivere. Però insomma questo non serve, quindi andiamolo a commentare. Ora i modi per configurare Samba sono tantissimi, questo è il modo che utilizzo io, ma se guardate in rete trovate una miriade di configurazioni. Io vi ho spiegato quelle che utilizzo io perché se dovessi spiegarvi tutte quelle che esistono questo video non finirebbe mai. Io mi limito a dirvi però che così facendo il client, cioè il dispositivo che si collegherà al nostro server, chiederà la password. Secondo me questo è perfetto perché facciamo in modo che si colleghi solo chi conosce la password, però se volete renderlo pubblico, quindi che chiunque possa collegarsi, anche se ve lo sconsiglio, dobbiamo aggiungere la stringa security, uguale share, oppure public uguale yes. Io comunque ripeto che ve lo sconsiglio. Quindi se siamo in vim, facciamo no, ctrl c, due punti, w, q, invio e abbiamo salvato il file di configurazione. Ora torniamo al nostro amato ufv, quindi al nostro amato firewall. Ora dobbiamo impostare ufv, quindi il firewall, per fare in modo che blocchi le connessioni in entrata, accetti le connessioni in uscita, però che accetti le connessioni in entrata che riguardano samba, perché altrimenti lui blinderebbe tutto, cioè nessuno potrebbe più collegarsi al server e questo sarebbe inutile. Per fare ciò diamo il comando ufv default allow outgoing, così facciamo in modo che lui accetti le connessioni in uscita, dopodiché diamo il comando ufv default deny incoming, così facciamo in modo che blocchi le connessioni in entrata, dopodiché diamo il comando ufv allow, e ora inseriamo le porte di samba. Questo serve per fare in modo che gli utenti possano collegarsi al mio server. Le porte di samba sono 137,138 UDP, e ufv allow, 139,445 DTCP. Ora possiamo abilitare il nostro firewall, quindi ufv enable, e diamo il comando systemctl enable ufv, per fare in modo che anche se riavviamo il server ufv non si stopperà ma continuerà a funzionare, e systemctl start ufv. In questo modo ora adesso ufv sta già funzionando. Ora prima di abilitare samba in sé, dobbiamo aggiungere un utente a samba, altrimenti non potrà funzionare. Potete fare in due modi, o creare un nuovo utente ad aggiungere quello, oppure utilizzare l'utente che avete già creato. Io farò così, quindi il comando è smbpasswd-a-rickman, perché il mio utente si chiama rickman. Faccio invio, mi chiede la password, metto sempre la password che ovviamente è rickman, e così abbiamo aggiunto un utente. Ora possiamo anche abilitare samba, però prima di farlo diamo il comando testfarm, che non è obbligatorio, anzi è opzionale, però serve per vedere se abbiamo fatto errori durante la configurazione. Ora lui mi dà l'errore perché non trova la sezione global, però se voi copiate il file che vi lascio in descrizione, non vi darà questo errore. Comunque l'importante è che non dia errore sulla configurazione che abbiamo fatto noi. Se così fosse vi direbbe tipo, c'è un errore su aperta parentesi quadra, condivisione, chiusa parentesi quadra. Appurato che non ci sono errori, appunto come vedete, nella mia configurazione, posso dare il comando systemctl enable smb, no, smb, se vi dà errore dicendovi che non esiste smb, come in questo caso, dovete mettere smbd, e la stessa cosa quindi systemctl enable nmb. perfetto. Ora diamo il comando systemctl start per avviare proprio il server smb, e stessa cosa systemctl start nmb. Ricordatevi che se voi qui al posto di smb avete usato smbd, dovrete fare la stessa cosa qui. Il nostro server ora sta già funzionando, non è obbligatorio, ma possiamo anche fare un veloce riavvio. E ora appena finirà di avviarsi, il nostro server sarà totalmente funzionante, e ne potremo collegarci al suo IP tramite un qualsiasi dispositivo, che sia Android, iOS, Linux, MacOS, Windows. Ok, se prima abbiamo fatto l'accesso da root, perché da maggior parte dei comandi richiedevano sudo, ora possiamo anche fare l'accesso da utente normale. Perfetto, ora il computer è così, non serve più fargli niente, ora il server sta funzionando.